Grazie a tutti per essere qui, per me è un onore. Davide era, al di là del capitano che era, una persona speciale che poi lo rendeva un capitano straordinario. Ma prima di tutto era la persona che ci trasmetteva a noi un po' più giovani. Le cose importanti che poi ci ha travasciato e sicuramente mi emoziona una volta parlare di lui. Aumentiamo il peso e il cario su questa fascia, perché ti diamo il compito di sensibilizzare il più possibile, anche ai ragazzi più giovani che si affacciano alla prima squadra, di trasmettere lo spirito, il valore di questa maglia, cioè come è vissuta, te lo sai, noi siamo ossessivi, cioè quando si perde non riusciamo a prendere il sogno, abbiamo queste richieste che possano diventare anche contribucenti. Quindi ti facciamo un regalo che investe il tuo ruolo di sensibilizzazione verso i compagni, soprattutto il più giovane. Grazie. Per prendere il presidente Romerani del giro sinistro della Fiorentina e Capitano, non c'è niente di meglio di un grande pensiero sinistro e Capitano della Fiorentina del passato. Andiamo sul palco Stefano Calotti. Dal numero 3 al numero 3, da Capitano a Capitano, meraviglioso. Ma spero veramente, innanzitutto grazie per l'invito, e spero che ti possa posmettere ai ragazzi i capi e per far cercare una cosa molto importante. Certamente. Io avevo 13 anni quando vedevo un signore seduto lì, che si chiama Giancarlo Antonioni, e sognato a capire un giro di professore di Marlo Andrea, che possa soddisfare tutte le tue aspettive e di portare avanti questa società in maniera eccetera. Grazie. Ti ringrazio. Il premio del Stato del Prenno è una speciale fascia dal Capitano che ricorda il ruolo importante. Quindi per la foto Stefano Marotti e Milano.